Salve a tutti ragazzi ed oggi siamo tornati Perfetto, siamo nella modalità artificieri Siamo tornati nel nostro vivo Va bene Allora io ti spacco qua Così mi calo dopo Questa è una mia grandissima tattica raga Ho preso Valkyrie Guardate sto grande imbecille Male Ti sei messo contro l'uomo sbagliato Allora, fatemi mettere Una qua Una qua E un'altra là in fondo Poi noi ce ne andiamo Di sopra chiaramente Perfetto, quella è morta Ma io non ci credo Ce ne andiamo Prima là in fondo Va bene Qui Vediamo le telecamere Come sono messe Perfetto Questa va bene Questa altra idem Raga Mi sono arrivati un sacco di commenti Più che commenti offese Diciamola tutta ragazzi Che ho eliminato Perché Attenta Che ho eliminato perché non voglio fare Non voglio vedere sempre i soliti commenti Dove dicono che non so giocare Che sono un hub Solamente perché l'altra volta Ho perso una partita Arrivano da qua eh Solo perché l'altra volta Ho perso una partita Raga ma voi siete pazzi Non ti sporgere Non ti sporgere Raga ma voi siete pazzi A insultarmi in quel modo Per una partita persa Ma voi siete Ma c'è ma io non ho capito Allora Siete tutti quanti nabbi Visto che perdiamo Tutti quanti le partite Oh 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 Così non va Un operatore alleato rimasto Eh Ok Ok 15 secondi Il tempo scade tra 10 secondi Restano 5 secondi Eeeh Rimane in vita Come la vedi Come la vedi Volevo fare Volevo andare di sotto così Però poi mi sono ricordato La fine dell'altra volta E allora ho lasciato perdere Secondo round E quello sta uscendo Guardalo Eccolo là Ne ha fatti fuori due Uno il compagno E l'altro Guardatelo là Vai Mettiti paura No Voglio che si deve mettere paura Bravissimo Valkyrie Mo lo facciamo muovere un po' Che bastardo però Come mi ha fatto a vedere L'operatore alleato rimasto Che cosa Oddio Sono morti due Sono morti due Con la trappola di Capkan No vabbè Di nuovo Valkyrie Questa volta però Con la mitraglietta Cioè raga Il round di prima È stato forse uno Dei più assurdi Che ho mai giocato Cioè sono morti due Con la trappola di Capkan È proprio inaudibile Una cosa del genere Comunque Questo video raga Credo che lo vedrete Un po' Più tardi Tipo verso le 6 Le 6 Le 7 Di pomeriggio Perché Cioè lo sto registrando Il giorno stesso Per cui Un'altra qua E un'altra liquada Poi io me ne sparisco Come al solito sopra A me il pompa mi serve Perché devo spaccare le botole Mi piazzo di qua Controlliamo Eccolo Mo' fa esplodere M'è venuta un'idea Ma Ben bozzardata St'idea raga Porca vacca Volevo lanciare il C4 Non c'è nessuno Perfetto Ma dove cavolo sono Sono andati tutti da dietro Oh E che schifo proprio Come la vedi Ed eccoci con il nostro Caro Black Attento che di là c'è Pulse Perché si spacca Ah no E' coperta Perfetto Mi piace Allora Bene Ho detto che c'era Pulse Che qui non c'è nessuno Quindi cazziamo immediatamente Connaggia Ti vuoi fare esplodere Ti vuoi fare esplodere E quello Dalla Addio maronna Ma non coprono niente Lo sai che quello si affaccia E copri Che cavolo Guarda Manco mi ha preso a me Ehi Era ora Questa volta ho preso Capcom Raga Il mega Capcom E Che spacca tu Questa partita Mi sembra un buono Iusita Raga Ma ve lo dico proprio Perché Buono lo so Sembra tanto particolare Invece Sto facendo 4 1 2 Comunque Cerchiamo di Questa volta Saremo Annaccia Non riesco a parlare Saremo Camperati All'interno Quindi Qua copiamo Ah no Perché poi Non si può più passare In effetti Ah C'è Glatz Uno con la trappa Che spettacolo Uno viene di qua Ah Perfetto L'ultimo nemico rimasto Sapevo io Il nemico ti scoprirà Se rimani in questa zona Ti hanno scoperto Torna indietro Oh Alleluia Ragazzi Una partita Una partita Veramente carina Dai Ho fatto Cioè La mega kill Con cap La vita Per quanti punti Eh Per 200 punti Vai Se l'è meritato Questo raga Comunque Fatemi sapere La vostra Ho finito Sa chi La kill con cap Che ne è stata epica E vediamo un attimo Quanto siamo arrivati Siamo al 104 Abbiamo fatto pure Una bella sfida E a oro 1 Alleluia Si ritorna in oro E raga Spero di arrivare In oro 2 Oro 3 Ma vediamo Più 53 E noi ci vediamo Al prossimo video Al prossimo video